Il fumo non si è ancora spento, come potete vedere qui al Botanica Garden di Vertemate, l'odore acre del fumo si sente anche dopo diverse ore, ma soprattutto la cosa più inquietante sono queste immagini, potete vedere, una assoluta devastazione, non è rimasta in piedi neppure una traga e ormai appare certo il rogo è doloso, qualcuno questa notte volontariamente ha piccato il fuoco con una scopa di assaggina probabilmente in più punti, più punti di innesco sarebbero stati trovati dai vigili del fuoco.